Con l'eccezionale ondata di caldo che ha investito l'Italia c'è molta preoccupazione per gli incendi. La protezione civile regionale, che di recenti ha presentato il proprio piano, che prevede tante novità e più uomini e mezzi, anche grazie al concorso delle associazioni di volontariato, è pronta ad affrontare il tutto, con la speranza che sia comunque un'estate senza grandi problematiche. Al momento la situazione in Abruzzo è sotto controllo. Ci sono stati dei piccoli interventi, ma di deve entità. Certamente il caldo non aiuta, siamo in massima allerta questi giorni. Abbiamo anche oggi, per esempio, una componente di vento che può essere, diciamo così, aiutare la propagazione degli incendi. Gli anni massima stiamo andando bene, perché insomma grossi incendi non ce ne sono stati. Qualche fenomeno qui all'Aquila, come sappiamo, abbiamo avuto un incendio l'altro ieri a Goriano Sicoli, a Prezza in particolare, e diciamo che la situazione è abbastanza tranquilla. Però le temperature molto alte di questi giorni ci debbono mettere sulla massima allerta. In questo senso, ovviamente, tutti siamo chiamati a collaborare nel momento in cui vediamo un fuoco, chiamando il 115 di vigile del fuoco o il nostro numero verde, per segnalare l'incendio e darci modo di intervenire immediatamente.